Il progetto delle luci di Natale a Lucca ha incontrato quest'anno diverse difficoltà dettate dalla scarsa adesione al pagamento della quota registrata in diverse vie della città. Difficoltà che hanno messo in dubbio l'accensione delle pendane in alcune vie storiche del commercio lucchese. ConfCommercio, il suo centro commerciale Città di Lucca e la sua commissione centro storico si sono però impegnati in un lungo e complicato lavoro di porta a porta andando a visitare personalmente piccoli negozi e marchi delle grandi catene riuscendo ad ottenere in estremi su un discreto numero di adesioni al progetto. Un lavoro che sommato all'accordo raggiunto con alcune aziende private ha permesso di ottenere un risultato importante. Alcune zone simbolo della città come ad esempio via Fillungo e piazza San Michele saranno infatti illuminate. Inoltre abbiamo alcune aziende che ci aiutano, ci supportano e credano nel lavoro che facciamo. Quindi in questi giorni ci vedrete di nuovo all'opera in tutta la città e Lucca sarà finalmente accesa. Doveroso un ringraziamento alle persone che hanno lavorato nel porta a porta e soprattutto agli sponsor privati. La palestra Ego Wellness è l'azienda Isola Spa di Lammari, cui va sommata la società Gesangas e Luce che ha deciso di proseguire la sua storica collaborazione con il sistema ConfCommercio. Un sentito ringraziamento va naturalmente anche ai commercianti che hanno deciso, al contrario di altri colleghi, di sottoscrivere la quota di adesione al progetto. Un particolare plauso anche alla ditta lucchese S.D. Impianti nella persona di Sergio De Santi e dei suoi collaboratori dell'azienda Onshine che si sta occupando del montaggio delle luci e il cui lavoro sta riscuotendo numerosi consensi per la qualità delle pendane proposte.